Musica Tra parentesi il Racing 4 Genova che detiene il record di partenti con 13 vetture al via contro le 11 della Lanterna Rally ma ora è il momento di andare a salutare e presentare Roberto Vescovi leader del trofeo Pirelli per quanto riguarda la sua categoria non lo saluto con la sua fida Giancarlo Aguzzi ciao Roberto, buongiorno, ben ritrovati ragazzi allora pronti e agguerritissimi? Sì, siamo qua, siamo pronti speriamo comunque di fare una bella gara io se la metto tutta come al solito la gara comunque dalle ricognizioni visto che è organizzata bene, è bella comunque le prove quasi sempre bellissime e dai, vediamo di vederci domani sera contenti io sono qui che mi aspetto ciao ragazzi al piove cronometro equipaggio numero 21 Roberto Vescovi, Giancarlo Aguzzi leader della speciale categoria nel trofeo io sono qui Grazie. 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 Grazie.